ciao ragazze bentrovate sul mio canale vi volevo far vedere siccome mi è piaciuto tantissimo come vedete dalla foto questo bellissimo punto e mi è piaciuto tantissimo è bello da farci un po di tutto copertine maglie scaldacolli stole è un po un bel punto proprio per adatto un po a tutto e vi volevo far vedere come va eseguito mi è piaciuto tantissimo e ve lo voglio far vedere passiamo subito al tutorial e iniziamo in questo modo facciamo il nostro cappietto e lo stringiamo e poi facciamo la catenella io adesso ve lo faccio vedere su un gambiongino piccolo 11 12 quindi fatta la catenella questo è un multiplo di 6 io ho fatto su un gambiongino piccolo 37 catenelle più una quindi 38 fatta l'altra catenella proseguiamo tutto il giro a punto basso in questo modo ogni catenella un punto basso ok e proseguiamo così per tutte le maglie sottostanti quindi arrivati alla fine del giro vedete ho fatto tutto tutto il giro a punto basso proseguiamo col secondo giro una catenella giriamo il lavoro e proseguiamo sempre a punto basso ma preso solo la costina dietro in questo modo se lo guardate dall'alto si vede dove prendere la maglia solo nella costina dietro e proseguiamo così per tutto il giro un altro giro di punti bassi in costa retro e ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro arrivati alla fine del giro vedete ho fatto il secondo giro di punti bassi in costa retro alla fine del giro io lo prendo normale non lo prendo in costa retro perché viene più rifinito quindi lo prendiamo tutti e due le asole ok in questo modo adesso procediamo in questo modo una catenella giriamo il lavoro è sempre in costa retro facciamo il primo punto basso secondo punto basso e terzo punto basso tre punti bassi in costa retro 2 catenelle saltiamo 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 6 maglie sottostanti 1 2 3 4 5 6 nella settima prendiamo sempre la costina dietro e facciamo un punto alto doppio in questo modo di nuovo due volte il filo sull'uncinetto e sullo stesso punto ne facciamo un altro per sette volte quindi dobbiamo fare sette punti alti doppi sullo stesso punto 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 2 2 catenelle saltiamo di nuovo 6 maglie sottostanti 2 3 4 5 e 6 entriamo nella settima sempre in costa retro e facciamo 5 punti bassi sempre in costa retro nella costina di dietro 3 4 e 5 2 catenelle 2 catenelle saltiamo di nuovo 6 punti sottostanti entriamo nel settimo e facciamo di nuovo 7 maglie alte doppie 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 15 15 15 15 15 15 e 7 2 catenelle saltiamo di nuovo 6 maglie nella settima sempre nella costina dietro facciamo due punti bassi in questo modo ok adesso procediamo una catenella giriamo il lavoro e facciamo due punti bassi sempre in costa retro 2 catenelle e facciamo nel primo spazio che troviamo qui entriamo estraiamo il filo un po più su filo sull'uncinetto entriamo nel primo foro estraiamo il filo filo sull'uncinetto estraiamo il filo per quattro volte in questo modo chiudiamo tutto tutto insieme e una catenella entriamo nel secondo foro e facciamo la stessa cosa estraiamo il filo per quattro volte e poi chiudiamo tutto insieme in questo modo e una catenella di nuovo entriamo nel foro estraiamo l'asola filo sull'uncinetto estraiamo l'asola filo sull'uncinetto estraiamo l'asola filo sull'uncinetto estraiamo l'asola chiudiamo tutto insieme e una catenella di nuovo per quattro volte due tre e quattro chiudiamo tutto e una catenella filo sull'uncinetto entriamo nel foro successivo e facciamo la stessa cosa per quattro volte e chiudiamo tutto insieme una catenella di nuovo per quattro volte chiudiamo tutto e facciamo la catenella arrivati a questo punto facciamo un'altra catenella lasciamo abbiamo fatto cinque punti bassi precedentemente lascia saltiamo un punto basso entriamo nel secondo e ne facciamo tre normali presi normali non in costa 2 catenelle e ripetiamo lo stesso come abbiamo fatto da questo lato ripetiamo tutto nell'altro lato e ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro vedete come viene il lavoro quindi abbiamo fatto punto puff di quattro punti bassi due catenelle abbiamo ripetuto il punto puff due catenelle e due maglie basse alla fine del giro adesso procediamo in questo modo una catenella e facciamo tutto il giro di punti bassi preso normale non in costa quindi tutti i punti sottostanti a punto basso qui dove c'è lo spazio di due catenelle facciamo due punti bassi qui sulla sul punto puff prendiamo ogni punto sopra dove abbiamo fatto la catenella un punto basso nello spazio tra i due punti puff un punto basso sopra il punto puff un altro punto basso tra il punto puff un altro punto quindi ogni punto e ogni spazio un punto basso e facciamo così per tutto il giro tutto il giro di punti bassi su ogni punto sottostante e negli spazio di 2 catenelle ne facciamo due e proseguiamo così per tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro vedete come viene il lavoro quindi ho fatto tutto un giro di punti bassi adesso ripetiamo di nuovo una catenella giriamo il lavoro e ripetiamo di nuovo il punto basso in costa retro quindi solo la costina di dietro tutto il giro appunto basso in costa così solo la costina di dietro e ripetiamo tutto il giro appunto basso vedete quindi viene a rilievo proseguiamo così per tutto il giro di punto basso in costa retro solo la costina di dietro e ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro io ho fatto il secondo giro di punti bassi in costa retro ed è come viene a rilievo e se volete se vi piace di più il rilievo potete fare anche più giri di questo punto basso a rilievo non è che vi dovete fermare per forza a 2 a me mi piace a 2 mi piace a 2 che è molto bello poi se è più delicato se vi piace con più giri si può fare anche a 3 a 4 come vi piace vi volevo far vedere io siccome su questo che ho fatto ho cambiato colore ma voi lo potete fare anche tutto un colore non è detto che va fatto a due colori a tre colori l'ho fatto proprio per farvi vedere la differenza del rilievo però arrivati a questo punto vi voglio far vedere solo il cambio di colore poi procedo sempre con lo stesso colore vi voglio far vedere solo come va cambiato il colore sull'ultimo punto che dobbiamo ancora eseguire perché vedete non l'ho fatto entriamo e prendiamo il filo dell'altro colore che vogliamo eseguire in questo modo ok quindi estraiamo già con il colore che vogliamo aggiungere in questo modo non si vede tanto la la il passaggio del filo dell'altro colore e una volta eseguito e messo il filo dell'altro colore procediamo in questo modo che vi faccio vedere un pezzetto allora facciamo 3 catenelle facciamo 4 catenelle 5 più una per separare quindi uno sullo stesso punto dove siamo in dratti facciamo la doppia maglia alta facciamo una catenella di separazione e rientriamo nello stesso punto e facciamo di nuovo la maglia alta doppia di nuovo una catenella di separazione e un altro punto alto doppio nello stesso punto 2 catenelle saltiamo 6 punti bassi sottostanti entriamo nel settimo e facciamo un punto basso in costa retro 2 3 4 e 5 5 punti bassi in costa retro 2 catenelle saltiamo le 6 maglie sottostanti entriamo nella settima una catenella di separazione e ripetiamo per sette volte una catenella di separazione e rientriamo sempre nello stesso foro sempre nella stessa maglia sottostante una catenella di separazione 4 una catenella di separazione e un altro punto alto doppio una catenella di separazione e di nuovo un punto alto doppio una catenella di separazione e facciamo l'ultimo punto alto doppio 2 catenella di separazione e facciamo le 6 maglie sottostanti entriamo nella settima qui e facciamo di nuovo 5 punti bassi in costa retro 3 4 e 5 2 catenella di separazione 2 catenella di separazione saltiamo le maglie sottostanti 2 3 4 5 6 nell'ultimo punto facciamo 4 maglie sottostanti 2 facciamo 4 maglie alte doppie sullo stesso punto separati da una catenella 2 una catenella di separazione 3 una catenella di separazione e facciamo il nostro ultimo punto alto doppio poi facciamo un punto alto proprio al lato di dove finisce il punto alto doppio un punto alto alla fine in questo modo adesso procediamo in questo modo facciamo 3 catenelle giriamo il lavoro e nel primo punto qui nel primo foro ottenuto facciamo il nostro punto puff per quattro volte chiudiamo tutto è una catenella di nuovo nel punto successivo rifacciamo il punto puff per quattro volte chiudiamo tutto è una catenella di nuovo ci entriamo nel foro successivo e facciamo quattro gettate di punto puff chiudiamo tutto è una catenella 2 catenelle saltiamo una maia entriamo nella seconda e facciamo tre punti bassi 2 e 3 presi normale 2 catenelle entriamo nel foro che troviamo nel primo foro disponibile delle maglie alte doppie e ripetiamo il punto puff per quattro volte nello stesso foro chiudiamo tutto è una catenella quindi ripetiamo tutto il giro di punto puff negli archetti che abbiamo sottostanti e poi procediamo lo stesso modo come abbiamo fatto all'inizio del giro ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro vedete io ho fatto qua abbiamo fatto quattro punti 3 punti puff 2 catenelle 3 punti bassi 2 catenelle 7 punti pass 2 catenelle 3 punti pass 2 catenelle 3 punti pass alla fine del giro facciamo una maglia alta proprio nella prima catenella del giro sottostante e chiudiamo il tutto adesso si procede sempre allo stesso modo come il giro sottostante quindi dobbiamo ripetere i due giri di maglie basse uno preso normale il primo giro il secondo in costa vi faccio vedere come procedere solamente per questo giro e poi vi lascio da sole quindi arrivati a questo punto facciamo una catenella giriamo il lavoro e facciamo il nostro punto basso in tutti i punti quindi riprendiamo tutti i punti a punto basso dove c'è lo spazietto facciamo due punti bassi dove c'è il punto basso facciamo il punto basso e riprendiamo tutto il giro a punto basso due punti massi e poi su ogni punto fasso prendiamo un punto basso nello spazietto un punto basso sopra il punto puff di nuovo il punto basso e così per tutto il giro proseguiamo così per tutto il giro ci vediamo alla fine del giro quindi arrivati alla fine del giro del primo giro di punti bassi ripetiamo di nuovo una catenella e ripetiamo di nuovo il punto basso in costa retro preso solo nella costina dietro ve lo faccio rivedere solo la costina dietro e procediamo così per tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro del secondo giro di punti bassi in costa retro vedete come viene il lavoro è bellissimo vi faccio vedere come procedere per un pezzetto perché adesso va ripetuto il giro sottostante questo perché si come vedete prima si fa a due poi si fa in mezzo quindi qui ai latino adesso si riprocede come il primo giro il primo gruppo che abbiamo fatto vi faccio vedere come procedere quindi facciamo una catenella e facciamo tre punti bassi due catenelle saltiamo sei maglie sottostanti quindi una due tre quattro cinque sei nella settima prendiamo solo la costina dietro facciamo la maglia alta doppia di nuovo due volte il filo sull'uncinetto e ripetiamo anzi no facciamo una catenella di separazione due volte il filo sull'uncinetto ripetiamo il punto alto doppio una catenella di separazione per sette volte una catenella di separazione rendiamo sempre sullo stesso punto a maglia alta doppia una catenella di separazione di nuovo una maglia alta doppia una catenella di separazione e di nuovo la maglia alta doppia quindi sette maglie alte doppie nello stesso foro 2 catenelle saltiamo le sei maglie sottostanti e facciamo cinque punti bassi 2 catenelle di separazione saltiamo le nostre sei maglie sottostanti entriamo nella settima e ripetiamo le sette maglie alte doppie separati da una catenella nello stesso punto 4 4 5 6 6 7 e 7 2 catenelle di separazione saltiamo le nostre maglie di base e nell'ultima nella penultima facciamo un punto basso e un punto basso sull'ultima maglia ed ecco che abbiamo rifatto abbiamo ricreato il nostro archetto di sette maglie alte adesso proseguiamo in questo modo ma comunque va ripetuto tutto adesso il punto puff che abbiamo fatto nel giro sottostante quindi proseguiamo in questo modo una catenella giriamo il lavoro facciamo un punto basso due punti bassi 2 catenelle e rifacciamo il nostro punto puff in ogni archetto quindi per quattro volte chiudiamo tutto e una catenella di nuovo rientriamo nel foro e facciamo 4 gettate di punto puff di punto puff una catenella quindi procediamo così per tutto il giro adesso dobbiamo riempire gli anni nostri archetti di punto puff salti 2 catenelle alla fine saltiamo un punto 3 punti bassi e ripetiamo il punto puff da quest'altro lato e ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro quindi abbiamo fatto due punti bassi all'inizio del giro due catenelle abbiamo fatto il nostro punto puff per sette volte nell'archetti sottostanti due catenelle e tre punti bassi due catenelle di nuovo il punto puff due catenelle e due punti bassi alla fine del giro adesso arrivati a questo punto dovete comunque solamente ripetere questi passaggi quindi l'abbiamo fatti tutti adesso c'è il giro del punto basso il primo giro di punto basso presa normale il secondo in costa retro e poi si procede sempre allo stesso modo quindi per adesso penso che vi basta quindi vi lascio da sole proseguite da sole io ho fatto un campioncino su 30 su 37 mai e più una su 37 catenelle più una ma voi potete fare la lunghezza la larghezza desiderata quindi quando più grande la volete fare è buona per è bella per una stola è bello per uno scaldacollo magari non di cotone ma non per adesso perché siamo nella stagione estima però è bellissimo perché l'ho anche visto quindi potete procedere da sole penso sia stato utile anche farvi vedere questo bellissimo punto dove ci si può realizzare tante cose e con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video tutorial spero che vi sia piaciuto ciao ciao da carmi ciao